Omelia ventiduesima domenica tempo ordinario anno B. Dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. La prima lettura di questa domenica ci insegna l'importanza di osservare la santa legge di Dio. Mosè disse al popolo. Ascoltate le leggi e le norme che io vi insegno. Affinché le mettiate in pratica. Perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi le osserverete dunque. E le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza. Punto. Da questo impariamo che è fondamentale osservare i comandamenti di Dio. Se veramente vogliamo entrare in possesso della vita eterna in Paradiso. Il Salmo responsoriale dice che dimorerà nella casa del Signore solo. Colui che cammina senza colpa. Pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calunnia con la sua lingua e non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Non fa usura colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Punto. Meditiamo su queste parole e rinnoviamo il nostro proposito di rimanere sempre fedeli alla legge di Dio che ha legge di vita. Se ci capita la disgrazia di cadere in peccato grave. Ricorriamo con fiducia al sacramento della riconciliazione. Se ci confesseremo con vero pentimento e con sincero proposito riceveremo certamente il perdono di Dio e la grazia per vivere da veri cristiani. Il Vangelo di oggi ci fa comprendere qualcosa in più. Ci fa capire che non basta un'osservanza solo esteriore della legge divina e dei precetti della Chiesa ma ci vuole soprattutto una adesione interiore. Le parole di Gesù sono molto chiare. Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. Punto. Queste parole sono una decisa condanna dell'ipocrisia. L'ipocrisia era il peccato dei farisei. Essi ostentavano la perfezione davanti agli altri ma tale perfezione era solo apparente. Gesù paragonò i farisei a dei sepolti imbiancati. Belli all'esterno, ma che all'interno contengono solo putridume. A volte rischiamo anche noi di essere degli ipocriti. Quando facciamo vedere esteriormente di essere delle persone per bene. Ma, dentro di noi, si nascondono i vizi più brutti e innominabili. A volte siamo anche noi come dei sepolcri imbiancati. Rispettabili all'esterno, ma dal nostro cuore escono. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, calunnia, superbia, stoltezza. Punto. Le parole di Gesù sono un richiamo ad una conversione e purificazione interiore. Anche per noi valgono le parole del Vangelo. Nel senso che abbiamo sempre il nome di Dio sulla bocca, mentre il nostro cuore è lontano da Lui. Ci sentiamo a posto e non ci accorgiamo dell'incredibile durezza del nostro cuore. Un giorno due donne andarono a chiedere dei consigli spirituali ad un santo eremita. Una donna era una grande peccatrice che si era sinceramente pentita dei suoi innumerevoli peccati. L'altra era una donna per bene, la quale si sentiva posto. L'eremita diede un incarico a tutte e due. Alla peccatrice disse di andare a prendere una grossa pietra. Alla donna per bene ordinò di portargli un sacco pieno di sabbia. Dopo diverso tempo, le due donne tornarono. Allora il santo disse. Chi di voi due ha fatto più fatica? Punto. Evidentemente tutte e due avevano fatto fatica. Pertanto, l'eremita disse alla donna che si era convertita da una vita di peccato. La pietra simboleggia il tuo grande peccato. Mentre, alla donna per bene, disse. Il sacco di sabbia raffigura i tuoi molti peccati di superbia ed orgoglio. Punto. La lezione venne compresa molto bene. La donna peccatrice se ne tornò a casa finalmente libera dal peccato. E anche l'altra donna tornò a casa umile e pentita. Buttiamo via il nostro sacco fatto di tanta superbia. Di tanta vanità. Di tanto disprezzo del prossimo. E di tante mancanze alla carità, nei nostri giudizi, nelle nostre parole e nelle nostre opere. Questo sacco ci impedisce di camminare speditamente incontro al Signore. Tante volte, blocca il nostro cammino. Gettiamo via questo sacco e. Come dice San Giacomo nella seconda lettura. Mettiamo in pratica la parola di Dio che è stata seminata in noi. In modo particolare, l'Apostolo San Giacomo ci esorta a camminare nella carità con queste parole. Religione pure e senza macchia davanti a Dio Padre è questa. Visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Punto. In poche parole bisogna fare il bene ed evitare il male. Non basta solamente evitare il male, ciò è troppo poco, bisogna anche fare il bene. San Giacomo parlava di visitare gli orfani e soccorrere le vedove. Queste due opere sono solo un piccolo esempio. Davanti a ciascuno di noi si apre un campo sconfinato di bene da compiere. Non lasciamoci sfuggire questa grazia di poter far qualcosa per la gloria di Dio il bene dei. Fratelli, sia questo il nostro proposito.